car tablet dedicato bmw serie 1 ringraziamo il cliente da bologna siamo in dashboard gestione video gestione musica qui possiamo decidere quale navigatore impostare di serie in questo caso impostiamo maps oppure facciamo decidere al cliente quando diamo le spiegazioni quindi quest'app navigatore il cliente deciderà quale navigatore primario inserire 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 sport sport comfort ecopro inserire inserire auto stato vettura profili profili guidatore contenuti 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 profili profili in questo caso non ha la retrocamera nel momento in cui il cliente decide di installare la retrocamera avrà anche la visione linee guida attiva sensori di parcheggio attivi e per andare su android è semplicissimo siamo solo android